Il primo risultato fu di chiedere a Montecitorio il giorno dopo che ero stato qui per la prima volta davanti al ministro dell'Agrosso chiesi un tavolo di concertazione presso il ministro dell'Agrosso al presidente della Camera Fini al presidente della Camera Fini ci fu una richiesta al ministro dell'Agrosso tanto è vero che il mercoledì successivo fu incardinato il primo tavolo di concertazione sulla vertenza Irisbus presso il ministero dello sviluppo economico ma ahimè sia in quell'occasione che in altri incontri che si sono sempre tenuti presso il ministero dello sviluppo economico abbiamo avuto sempre un grande assente cioè non c'era rappresentanza del governo non c'era né il ministro Romani né un sottosentrario del ministero dello sviluppo economico l'ultima volta all'ultimo incontro a cui ho partecipato c'era il ministro Rotondi che per la verità si è dichiarato ospite in quella occasione che cosa vuol dire? vuol dire purtroppo come abbiamo anche registrato l'altro ieri tra il governo e le parti sociali che si sono incontrate a Palazzo Ricci e ieri nell'informativa che abbiamo avuto da un governo in Parlamento da tre punti sulla manovra economica per l'Italia abbiamo notato ai noi che questo governo non ha una politica economica non ha una politica industriale